super cup new generation contro scumball team risultato vede il vantaggio per 1 a 0 di scumball team e quindi in tal caso si porterebbero a punteggio pieno dopo 5 giornate ottimo inizio i campionati gli scumball adesso scuotto scende centralmente serve gentile poi allarga bene per sorrentini che sbaglia completamente il passaggio di vivo prova il collo interno purtroppo il pallone scivola in fallo laterale sorrentini si incarica della battuta stranamente essendo lui la punta gentile viene a ricevere questo pallone centrocampo allarga oppure aveva pensato di farlo per scuotto poi cerca di servire di brisco e sbaglia sorrentini funge da difensore centrale adesso adesso ancora palla in avanti il tiro con un gomito la deviazione da parte di croce ancora palla sul fondo ottimo l'intervento di tutino diciamo in diretta miglior giocatore della quarta giornata super cup croce rientra sul destro cerca di servire silvestro non gli riesce poi ancora armando tutino dino porta palla sono poche le idee adesso ancora silvestri o silvestro sorrentini sbaglia ancora il passaggio in avanti tutino cercano una sortita offensiva quelli degli scobolt lungo il passaggio di silvestro silvestri non so se la io la ho dove è un attimo daniele barriale croce serve silvestri il tiro si è abbassato non abbastanza finisce quindi tra le mani ronga che serve scuotto allarga bene su sorrentini difensore centrale quest'oggi sorrentini ancora scuotto avanza passaggio centrale per gentile che agisce tra le linee poi cerca subito il tiro di collo non gli riesce chiediamo qui il nostro collegamento su questo primo piano per gentile grazie